parliamo anche di questo con il nostro prossimo ospite che è michelangelo massara di private wealth advisory michelangelo bentornato in nostra compagnia buongiorno grazie buongiorno a te buongiorno a tutti più che di astrazeneca mi incuriosiva sapere cosa che idea ti sei fatto sul caso appunto che riguarda la lombardia ancora una volta la regione che dovrebbe essere un po la punta di diamante insomma dal punto di vista sanitario dell'italia cade in una situazione insomma poco chiara che ha espresso parecchie problematiche di organizzazione specie nel weekend immaginiamoci questi enormi padiglioni pronti ad ospitare le persone per essere vaccinate ma insomma queste persone non si presentano perché perché il sistema informatizzato potrebbe mandare gli inviti a ciascuno di degli eventi diritto beh insomma non funziona non manda gli inviti e quindi il personale sanitario lì con i vaccini pronti il padiglione con le sedie e tutto quanto ma è tutto vuoto questo così per semplificare molto in buona sostanza ecco quello che è accaduto michelangelo diciamo che io ti potrei aggiungere qualche informazione in più che rende paradossale questo discorso durante il weekend io naturalmente sono zona milano durante il weekend ci sono state delle telefonate dall'ospedale san donato che tu sicuramente conosci certo sia attraverso numeri di cellulare sia attraverso proprio il numero del telefono dell'ospedale di san donato dove questa persona che conosceva il nome della persona la data in cui doveva fare il richiamo del vaccino e il numero di pratica diceva che quel vaccino che quella data per il richiamo veniva spostata di attendere un eventuale invio di sms o di comunicazione diversa bene panico generale perché comunque sulle varie chat tutti si domandavano ma come è possibile perché l'hanno rinviato quando l'hanno rinviato dopo circa un paio di ore si è scoperto che queste telefonate non erano corrette volendo utilizzare naturalmente un eufemismo cioè non si capisce bene chi abbia fatto queste telefonate sicuramente persone interna all'ospedale o persone che sono entrate in possesso di dati sensibilissimi che per una ragione ancora oggi inspiegabile hanno comunicato che questi vaccini non andavano fatti ovviamente la mobilitazione che c'è stata ha permesso poi di intervenire immediatamente diciamo in circa due o tre ore per capire che queste telefonate non erano veritiere non erano corrette e poi il sindaco di san donato ha detto che c'è stato un misunderstanding non si sono capiti allora io inizio a vedere insomma qualcosa preferivamo uno scherzo telefonico ma certo e siccome con la salute delle persone soprattutto le persone anziane non si scherza ecco io penso che questa sia una cosa molto ma molto grave molte volte deriva dai servizi fatti in outsourcing molte volte deriva da motivazioni che noi in questo momento non conosciamo sicuramente la magistratura cercherà di capire meglio esattamente quello che è avvenuto però queste sono le cose che avvengono ecco quindi alle problematiche di cui parlavi prima quindi ulteriori informazioni negative di AstraZeneca che sembrerebbero che siano finalizzate solo al fatto di continuare a portare AstraZeneca in Inghilterra permettere a loro di arrivare a una vaccinazione totale rispetto a tutta l'Europa e anche questo ce lo mettiamo c'è ovviamente il problema Lombardia che è un problema molto importante abbiamo visto ieri o l'altro ieri che c'è stato l'azzeramento dei vettici della società che si doveva occupare di questa comunicazione bene magari se veniva controllato un attimino prima in funzione delle n informazioni, n segnalazioni probabilmente non ci saremmo trovati in questo momento, in questa situazione oggi eh sì, infatti è proprio notizia insomma di questi giorni di queste ore anzi insomma l'azzeramento dei vertici con insomma poi adesso c'è chi spinge affinché sia poste italiane a prendere il controllo del sistema insomma del sistema aria e insomma comunque sia ecco la mossa più importante che era più anche attesa da parte della Lombardia è appunto la rimozione proprio del CDA di aria notizia proprio di queste ore insomma con Salvini che dà il via libera già per la settimana insomma l'arrivo di poste e che dovrebbe prendere appunto in mano la situazione questo per quanto riguarda cosa accade in Italia sul fronte vaccini l'altra notizia di queste ore è appunto l'aumento delle tensioni e il ritorno delle sanzioni Cina-Stati Uniti ma questo tema lo affronteremo più tardi perché con Michelangelo volevo aggiungere ancora qualche puntino sulle I sulla questione Turchia che abbiamo visto insomma aver avuto un impatto importante sui mercati in particolare della seduta di ieri in avvio di contrattazioni in Europa e anche in Asia Asia che ha chiuso negative tanti giapponesi insomma che hanno in mano che avevano i bond turchi nel proprio portafogli la stessa cosa vale per gli italiani che cosa è successo? l'abbiamo ricordato e ne abbiamo parlato anche con Andrea De Gaetano giù la lira turca giù l'indice insomma di Istanbul perché Erdogan ha rimosso ancora una volta per la quarta volta nel giro di pochi anni il presidente della banca centrale turca colpevole di aver alzato insomma i tassi di interesse per frenare un'inflazione che stava diventando evidentemente insostenibile insomma dal suo punto di vista a Erdogan non piacciono i tassi di interesse alti e quindi tolto un presidente se ne fa un altro in particolare un suo fedele collaboratore non che amico insomma facente parte dello stesso partito di Erdogan Michelangelo a te la parola per un commento anche su questo fatto che è sicuramente tra i più importanti della settimana certo quello che si è realizzato è quello che possiamo vedere direttamente nel video quindi il grafico in questo caso usd try quindi dollaro contro lira turca ecco possiamo osservare questo qui è un grafico daily quindi possiamo osservare la chiusura praticamente del giorno precedente la notizia e ovviamente l'apertura in gap up buy ovviamente a dei livelli molto ma molto ma molto più elevati ecco questo naturalmente è la classica dimostrazione di come delle notizie a livello macroeconomico poi si possono riflettere direttamente sui grafici e possono portare in alcune situazioni a degli stop loss molto ma molto importante ricordiamoci che un movimento di questo genere con il movimento di una valuta del 15% è comunque riconducibile anche un movimento similare che avevamo visto addirittura sul franco svizzero ai tempi quando c'era poi stata la decisione da parte della banca centrale svizzera ecco anche lì avevamo avuto un gap enorme molto superiore al famoso 20% con stop loss a raffica e posizioni ovviamente alcune in guadagno ma alcune veramente in fortissima perdita proprio in funzione di quello che è il movimento che poi hanno i mercati e le valute in funzione di quelle che sono le decisioni ovviamente sul discorso Turchia non c'è solo la rimozione del presidente della banca centrale ricordiamo il terzo in due anni e uno di questi tre era già un parente stretto di Erdogan quindi qua non è un discorso di parentela ma proprio di incapacità di capire esattamente cosa bisogna fare quando uno si trova in maniera ignorante in maniera ignorante in quanto ignora economicamente in difficoltà cambia come se il cambiamento possa portare naturalmente a un cambio generazionale di decisioni dove il problema sta comunque la base, la modalità in cui viene gestita la Turchia e ricordiamoci che secondo, almeno secondo il mio punto di vista personale il movimento che comunque ha fatto la Gira Turchia non è solo riconducibile esclusivamente a questo ma anche la decisione presa il giorno prima di poter permettere nuovamente di andare a togliere completamente la tutela nei confronti degli attacchi degli uomini nei confronti delle donne. Quindi in un paese che è sempre stato laico fino a quando naturalmente non è andato al potere Erdogan sappiamo che è molto forte la presenza naturalmente musulmana ma diciamo quello che è a livello di laicità la difesa della persona e la difesa della donna erano comunque baluardi che in questo caso con questa nuova legge che è stata fatta sicuramente verranno completamente sfaldati. Ecco, questa è sicuramente una cosa che non fa piacere da instabilità, da fortissima stabilità che unita alla notizia naturalmente dei mercati finanziari per quanto riguarda la Banca Centrale Turca ha innescato naturalmente questo meccanismo fortemente speculativo. Dunque questa è la situazione, ne abbiamo anche però peraltro già visto in anteprima è uno dei primi cartelli che ci mostri come di consueto per la panoramica, anzi il volo planare sull'andamento settimanale dei vari asset e allora torniamo insomma su quello che di fatto è appunto uno dei tuoi cavalli di battaglia per vedere insomma qual è la situazione io immagino partendo dai rendimenti dei decennali, insomma dei treasury americani. Partiamo in questo caso dal sempre spread BTP Bund, insomma un pochettino di soddisfazione al continente e all'Europa nonché all'Italia per capire qual è il movimento dei tassi di interesse stamattina l'avete affrontato molto bene, sicuramente abbiamo da una parte la Banca Centrale Americana che ha detto nello scorso intervento della settimana scorsa che è intenzionata a portare avanti i tassi bassi quindi a continuare a stampare liquidità, la Banca Centrale Europea dall'altra parte ha detto più o meno la stessa cosa ma ci sono delle situazioni oggettive che sono legate sia al rialzo dell'inflazione sia alla richiesta di alcuni stati che premono affinché questa stretta, questa continua emissione di liquidità abbia un freno e ci possa essere un'inversione bene, anche questo secondo me basterà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per riportare in alto naturalmente i rendimenti e quindi in questo caso potenzialmente poter abbassare anche alcuni prezzi sia a livello corporate sia a livello blog azionario. Quindi vediamo subito spread BTP Bund 96.1, ricordiamoci che settimana scorsa lo avevamo lasciato in area 93, quindi comunque siamo al di sotto di 100, bene, buona notizia. Rendimento BTP italiani 0.654, settimana scorsa era 0.60 quindi un incremento quasi del 10% rispetto alla scorsa settimana ma la cosa importante è che siamo sempre in un'area compreso tra 0.50 e 0.70 che è comunque la parte più bassa come possiamo vedere anche nel grafico, mediamente degli ultimi 7-8 anni ma in realtà su tutto il decennale. Quindi anche questa è ancora una notizia positiva ma questo ulteriore movimento che c'è stato a livello di BTP italiano dà ulteriormente il polso sul discorso del movimento delle obbligazioni stesse. E andiamo sui mercati azionari. I mercati azionari che hanno ritoccato, questo è il grafico mensile, quindi dopo aver ritoccato il 3.986 come nuovo massimo assoluto dello standard Empur, vediamo che ancora nel suo canale rialzista, sicuramente nella parte alta e andando a vedere il settimanale abbiamo visto naturalmente, eccolo qua, il massimo assoluto toccato, il ritracciamento, l'appoggio teorico sulla sua media mobile all'interno ancora del suo canale, vedremo se sarà in grado a questo punto di ritestare i 3.986 per poi eventualmente andare a fare nuovi massimi nella parte superiore del trend, del trend di lungo periodo ancora per il momento rialzista o se deciderà di fare un movimento laterale per poi diciamo andare a flettere e fare comunque un ritracciamento che ripeto ritengo comunque salutare per poter permettere poi nei prossimi mesi in piena ripresa economica dopo che saranno vaccinati oltre 70-80% della popolazione un rialzo diciamo in maniera proporzionale del mercato e più genuino con meno bolle speculative. Ma ovviamente bisognerà vedere settimana per settimana quello che è il movimento, al momento non ancora dato un vero segnale di inversione. Nasdaq, Nasdaq è praticamente l'abbiamo lasciato uguale identico la settimana scorsa per quanto riguarda la posizione mensile, ha leggermente incrementato un po' la posizione rispetto a martedì scorso ma ecco qua il movimento, quello che dicevamo, quindi un movimento molto più forte di ritracciamento momentaneo rispetto a quello che è il movimento che abbiamo visto sullo Standard & Poor's, ma qui dobbiamo tenere in considerazione in maniera molto oculata quello che è naturalmente il movimento dei portafogli dalle titoli principalmente sul mercato Nasdaq e che comunque avevano corso tantissimo quindi tecnologici Nasdaq e biotecnologie a un movimento, a un riversamento di liquidità diciamo sul Standard & Poor's e Don Jones dove ci sono sicuramente titoli Grow e Value ma molto più Value e che quindi permettono naturalmente di riportare alcuni di questi valori che erano comunque non necessariamente sottovalutati ma diciamo in trend rispetto agli scorsi anni naturalmente a valori più consoni rispetto al fortissimo rialzo che c'era stato sul Nasdaq e quindi vediamo qua appunto il ritracciamento, l'appoggio sulla seconda media mobile, ecco adesso sarà importantissimo capire come a livello settimanale e quindi poi mensile si comporteranno questa e la prossima candela se sarà in grado di rompere di nuovo al rialzo i 13.300 prima e 13.370 dopo allora probabilmente si potrà tornare anche verso i suoi massimi assoluti quindi 13.543 prima e 13.874 dopo oppure se non sarà in grado con forza di rompere teoricamente i 13.370 questa piccola trend line discendente rispetto ai massimi e quindi potrebbe portare a un movimento laterale ecco a quel punto sarà importante capire quale sarà il successivo movimento proprio per questo ormai da un mese un mese e mezzo a ogni appuntamento io dico sempre comunque molta attenzione perché il movimento all'interno dei portafogli è in essere i mercati hanno corso molto quindi prima di fare ulteriori incrementi di scommesse guardate bene i grafici e guardate bene i dati macroeconomici Germania invece che per fortuna segue molto di più diciamo l'indice principale anche se oggi abbiamo visto che insieme al mercato italiano sta momentaneamente tornando anche perché oggi la Merkel ha detto signori fino a Pasqua e oltre Pasqua rimaniamo chiusi ancora di più rispetto a prima a livello teorico quindi questo non è sicuramente un buon dato ma graficamente l'impostazione è ancora positiva raggiunto 14.804 potrebbe andare anche se dovesse continuare il suo trend ascendente a toccare massimi assoluti in coincidenza addirittura con la trend line di lunghissimo periodo che vediamo qua sul grafico mensile e quindi anche a livello settimanale vediamo il movimento che ha fatto quindi il suo ritracciamento parziale diciamo circa 4-5 settimane fa e poi questo ulteriore allungo una volontà ulteriore di crescita naturalmente questo non potrà essere decorrelato dai dati della pandemia e dall'altra parte dai dati macroeconomici ma in questo momento il mercato continua a guardare il mercato con un pochettino un po di paraocchi ecco possiamo definirlo così quindi anche qui attenzione il trend è ancora di lungo periodo ma bisogna guardare prospetticamente ai mercati ovviamente l'italia l'italia che è sempre in quell'area lì che avevamo sottolineato e l'area cui avevamo puntato i famosi 24.560 questo è il grafico mensile quindi l'eventuale rottura finalmente dell'area 24.560 potrebbe poi potenzialmente portare in area 25 100 25 600 e 26 e 300 dopo ricordiamoci che siamo distanti anni luce dal nostro 44.000 fortemente influenzato da titoli bancari che in questo momento soprattutto l'ultima settimana stanno risentendo anche di quello che è successo in turchia comunque per l'esposizione di alcune banche sia verso diciamo lo stato turco per quanto riguarda partecipazioni dirette indirette ricordiamoci quella che aveva unicredit naturalmente in una delle principali banche turche ma anche per gli investimenti diretti che ci sono in turchia e qui lo vediamo a livello settimanale ecco qua di nuovo l'area 24.560 la difficoltà di romperla in questo momento soprattutto senza un una forte spinta diciamo che potrebbe arrivare dai mercati americani un'eventuale rottura qua con forza ci potrebbe essere per esempio su un forte miglioramento dei dati di vaccinazione delle prospettive di vaccinazione e quindi della prospettive economiche che potrebbero fra virgolette rientrare petrolio petrolio che aveva raggiunto il famoso livello 71 indicato ormai da qualche mese ritracciamento 64 64 50 sembrerebbe che abbia intenzione ancora di tenere il suo trend line rialzista e quindi sembrerebbe che il mercato a oggi col grafico di chiusura di ieri questo a livello settimanale possa provare a ritornare verso l'area 71 se dovesse fare invece un movimento contrario supportato da situazioni macroeconomiche il prossimo obiettivo potrebbe essere area 57 prima 53 e 70 dopo e potenzialmente ritracciare anche fino a area 50.7 questo dipenderà molto anche dai dati macroeconomici che arriveranno naturalmente che arrivano giorno per giorno che potranno arrivare nelle prossime settimane oro oro che aveva fatto il suo ritracciamento parziale diciamo ha fatto un parziale rimbalzo adesso vedremo naturalmente se sarà in grado di riportarsi nella sua parte alta di questo trend comunque di ritracciamento momentaneo e quindi comunque potersi riportare eventualmente riuscire a rompere i 1746 1790 dopo e perché no arrivare fino in area 1800 1850 ecco perché parliamo di un ritracciamento perché se lo vediamo su un grafico mensile naturalmente è molto più chiaro il movimento rialzista che c'è stato questo al momento è ancora configurabile come un momentaneo ritracciamento ecco qua sarà importantissimo capire se il grafico ritornerà sopra l'area 1790 quindi per dare ulteriore spinta e forza con primo obiettivo 1913 e 2000 74 dopo oppure se continuerà il suo movimento di ritracciamento andandosi a appoggiare eventualmente sulla sua media mobile chiudiamo con il bitcoin nuovo massimo due settimane fa 60.657 ogni volta che si dà il bitcoin per in una situazione di ritracciamento lui fa praticamente quasi esattamente l'opposto quindi fa un parziale ritracciamento come avevamo visto qua due quattro cinque settimane fa per poi riportarsi addirittura su nuovi massimi ecco in questo caso dovremmo capire bene come si chiude questa candela quella di questa settimana ma soprattutto come si posizionerà poi rispetto alla sua media mobile e rispetto naturalmente ai suoi supporti che esistono naturalmente a vari livelli come si può vedere qua nel grafico ecco questo sarà molto importante per capire quale sarà poi l'eventuale trend ancora attenzione ancora attenzione così michelangelo massara private wealth advisory grazie come sempre per la tua panoramica sugli sui mercati sugli asset e l'approfondimento insomma sui vaccini e non soltanto buon lavoro michelangelo alla prossima grazie a te arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti